Sostenere genitori e famiglie durante il percorso di nascita attraverso una rete in grado di offrire sostegno dal concepimento al parto e fine ai mesi successivi è l'obiettivo dell'iniziativa Nascere in Centro, Ascoltare, Condividere e Sostenere organizzata dal Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Valduce e dai consultori Icarus e la famiglia di Como. Accompagnare la mamma anche in un certo periodo successivo e dargli uno spazio, uno spazio in cui venire, parlare, confrontarsi perché certo in un ospedale si dice vado a partorire, no in un ospedale vado a fare nascere una vita che poi deve continuare deve essere almeno nei primi tempi il più possibile aiutata. Questo sarebbe il senso di quello che però cerchiamo di non soltanto dire ma in realtà si cerca di farlo, lo stiamo facendo. La data da segnare in calendario è sabato 30 settembre dalle 10 alle 18 nella casa Giovannina Franchi in via Vitani 13 a Como una giornata per conoscere i servizi di supporto nel percorso nascita proposti dall'ospedale Valduce e dai consultori. Durante l'evento ad ingresso libero saranno infatti presenti ostetriche, psicologi, counselor, puricoltrici, infermieri, medici e volontari che illustreranno tutti i servizi creati per far sentire meno soli i neogenitori durante questa delicata fase. E infine per tutta la durata dell'evento saranno presenti momenti di intrattenimento dedicati e pensati per tutta la famiglia.